Benvenuti a questa nuova puntata di Panacea, oggi siamo ospiti nello studio del dottor Vincenzo Marcelli, una nostra vecchia conoscenza di Panacea che nella scorsa stagione ci ha parlato delle vertigini. Il dottor Marcelli è specialista in audiologia e dottore di ricerca in fisiopatologia della comunicazione audioverbale presso la scuola di medicina e chirurgia dell'università di Napoli Federico II. Dottore innanzitutto grazie per aver riaccettato di partecipare. Chiaramente buonasera a chi ci ascolta. Benissimo, oggi parleremo di ipoacusia, che cosa ne dice prima di guardare una breve scheda introduttiva? Con piacere. Benissimo, allora guardiamo questa scheda introduttiva sulla fisiopatologia dell'orecchio. L'orecchio è l'organo preposto alla funzione uditiva e al controllo dell'equilibrio. Nell'uomo il campo di udibilità va dai 20 ai 20.000 Hz. Il limite inferiore potrebbe essere associato al rumore che fa un tuono o l'aria condizionata, mentre la capacità di percepire suoni al di sopra dei 16.000 Hz si abbassa con l'invecchiamento, tant'è che il limite di 20.000 Hz è di solito percepito solo da giovani sotto i 20 anni. L'aria della parola è in un'area di frequenze quasi sempre conservata nonostante l'età, tra i 100 e i 1000 Hz. Questo fa sì che l'organismo riesca a difendere dal tempo e dalle malattie quanto più possibile la funzione della comunicazione. La maggior parte degli animali hanno una capacità di udito diversa dall'uomo, riuscendo a percepire anche onde sonore di frequenza superiore, come nel caso dei cani, dei gatti o dei pipistrelli. L'orecchio umano è composto da tre parti. Orecchio esterno, che comprende il padiglione auricolare, quello comunemente chiamato orecchio. La particolare forma del padiglione auricolare permette di stabilire la provenienza del suono, captare le onde ed indirizzarle nel condotto uditivo. I suoni vengono poi tradotti in vibrazioni e trasmessi all'orecchio medio. Nell'orecchio medio si trova il timpano, la parte principale dell'orecchio, insieme ai tre più piccoli ossicini del corpo umano, martello, incudine e staffa. I loro movimenti sono provocati dal timpano e amplificati 20 volte, trasferendo così tutti i suoni dell'esterno all'orecchio interno. Nell'orecchio interno avviene il processo di conversione delle onde sonore in impulsi elettrici, grazie alle cellule cigliate, situate nella struttura detta chiocciola o coclea, da dove vengono trasmessi al cervello, determinando la sensazione uditiva. Allora siamo tornati. Dottore, ipoacusia, qual è la definizione? Guardi, la definizione è sostanzialmente una, direi, alterazione della capacità uditiva e non come normalmente si dice una riduzione della capacità uditiva. Perché c'è una differenza? Il nostro orecchio ha un aspetto quantitativo, quindi sente una certa intensità di suono, ma soprattutto ha un aspetto qualitativo. Per cui io posso trovarmi di fronte ad un paziente che ha una riduzione quantitativa di udito, della capacità uditiva, che non ha riscontro in una grave alterazione della qualità uditiva. Il problema è che può succedere esattamente il contrario. Cioè posso trovarmi di fronte ad un soggetto che ha una riduzione quantitativamente poco significativa, ma ha una alterazione qualitativa molto importante. Quindi la definizione io ritengo più corretta sia quella di una alterazione della capacità uditiva, che può essere di tipo quantitativo, ma purtroppo spesso è di tipo qualitativo. E qual è la prevalenza di questa alterazione nella popolazione? Beh, la prevalenza è notevole perché parliamo in media di qualcosa in più del 5% della popolazione mondiale. Quindi parliamo di circa 400 milioni di soggetti poacusici, la maggior parte dei quali sono adulti, oltre il 90%, ma naturalmente un 8%, un 9% è una popolazione pediatrica, se non addirittura neonatale. Esistono diversi tipi di ipoacusie. Dottore, si può fare una classificazione? Certo, si può fare una classificazione ricordando brevemente come è fatto il nostro orecchio. Abbiamo una struttura più esterna, che è il padiglione auricolare, il condotto uditivo. Abbiamo un orecchio medio, costituito da membrana timpanica e catena degli ossicini, e abbiamo poi la parte più nobile dell'orecchio, che è l'orecchio interno. A seconda di dove si realizza il danno, noi possiamo parlare di una ipoacusia di tipo trasmissivo, se c'è semplicemente un ostacolo al trasferimento del suono dalla parte esterna alla parte più interna dell'orecchio. Un banale tappo di cerume può ridurre temporaneamente la capacità uditiva, ma ad esempio un otite, quindi la presenza di siero, di muco all'interno dell'orecchio, o anche patologie un pochino più importanti, come possono essere l'otosclerosi, che è una sordità tipicamente familiare caratterizzata dal fatto che, nel caso specifico, la staffa si blocca, non si muove correttamente, non lascia passare il suono. E quindi questa è la grande categoria delle otiti, delle ipoacusie di tipo trasmissivo, che sono suscettibili generalmente di terapia medica, ma anche terapia chirurgica. Abbiamo poi invece l'altra grande fascia, che è quella delle ipoacusie neurosensoriali o percettive, che sono determinate da una sofferenza dell'orecchio interno, quindi della coclea, o nei casi peggiori del nervo uditivo. Queste possono essere determinate, ad esempio, da fenomeni da infezioni virali, da patologie di tipo vascolare, ma a volte anche da patologie più importanti, come malattie degenerative o malattie neoplastiche. Ed infine dobbiamo ricordare che esistono delle forme miste, nelle quali ad un danno della parte meccanica dell'orecchio, quindi ad esempio del timpano, si associa anche un danno a carico del nervo. Molti dei nostri telespettatori si chiedono qual è la differenza tra rumore e suono? Guardi, c'è una differenza sia fisica, ma soprattutto psicoacustica. Per rumore noi dobbiamo intendere una fonte che non ha delle caratteristiche armoniche precise. Però io sarei più portato a fare una differenza psicoacustica, cioè tutto è stimolo sonoro. Il problema è che quello che può essere un suono per me potrebbe essere un rumore per lei. Immaginiamo alcuni tipi di musica che possono essere graditi a qualcuno e sgraditi ad altri. Il meccanismo è sempre lo stesso. L'orecchio viene stimolato, il segnale sonoro arriva al cervello. Quello che cambia è la qualità e soprattutto la nostra reazione emotiva al suono. Il rumore è sicuramente qualcosa che genera una reazione sgradita nei confronti del suono stesso, cosa che non fa il suono. Abbiamo parlato di rumore, di suono e di musica. Facciamo una breve pausa per ascoltare una canzone e in seguito la commenteremo insieme al dottor Marcelli. Scriviti al nostro canale. I wanna hear your voice Calling out by name A life-changing noise I'll never be the same Let's hear the world Like you never did before Hear the world Let's open up that door Hear the world It's time to let the helping end We hear the world I hear the world Loud and clear I feel this music Instead of tears I hear the world No ifs and why A channel of birds Up in the sky And I hear your voice Calling out by name Now I'm like you And you're like me We're all the same Let's hear the world Like we never did before Hear the world Let's open up that door Hear the world It's time to let the helping end Everyone sing out across the land Raise your voice for those who can't be heard Speak out loud Put out the words Hear the music Hear the world Cause love Is all we need Let's hear the world Hear the world Hear the world Let's hear the world Let's hear the world Let's hear the world Hear the world Hear the world It's time to lend the helping hand Everyone sing out across the land We hear the world Dottore, allora, che cosa ne pensa? Questa è una reale simulazione, una fedele simulazione di unipoacusia? Guardi, allora, è sicuramente di impatto perché chiarisce immediatamente che cosa accade ad un soggetto che ha una riduzione quantitativa della capacità uditiva perché abbiamo visto benissimo, abbiamo ascoltato benissimo quello che accade riducendo l'intensità. Io faccio fatica ad ascoltare. Dobbiamo ricordare, però, l'altro aspetto, che è quello della distorsione qualitativa. Il soggetto con un danno uditivo, nella stragrande maggioranza dei casi, non solo sente poco, ma sente distorto. E questo è l'aspetto più importante che avrà poi delle ripercussioni altrettanto importanti quando parleremo di protesizzazione acustica. Ma intanto, continuando il nostro discorso, è possibile una sordità improvvisa? Da quali patologie può essere sostenuta? Certo, guardi, l'ipoacusia improvvisa è possibile e purtroppo è un evento che deve essere gestito con grande attenzione. Soprattutto perché molto spesso inizia con un danno estremamente limitato, che il paziente riferisce come, sai dottore, è come se avessi un po' l'orecchio ovattato. Qui non bisogna mai commettere l'errore di sottovalutare questo sintomo, perché è chiaro che l'orecchio ovattato molto spesso ci fa pensare ad un banale tappo di cerume, ci può far pensare ad una lieve forma catarrale. Ma in questi casi è fondamentale una corretta valutazione del paziente, perché quell'iniziale senza di ovattamento potrebbe essere in realtà l'inizio di un'ipoacusia improvvisa. Ipoacusia improvvisa che non è altro che la perdita improvvisa, generalmente entro 72 ore, di una notevole quantità uditiva. Ed è estremamente frequente perché riguarda in linea di massima un 10-15 soggetti su 100.000, quindi è una frequenza non bassa. Siamo nello studio del dottor Marcelli. Non a caso, il motivo è legato alla domanda che stiamo per fare, cioè come si fa la diagnosi di un'ipoacusia? Quali sono gli strumenti diagnostici? Beh, naturalmente dobbiamo fare una immediata distinzione perché lei capisce benissimo che se ci troviamo di fronte ad un adulto collaborante, noi abbiamo una serie di strumenti e soprattutto abbiamo la collaborazione del paziente, che ci consentirà di eseguire correttamente una serie di esami. Completamente diverso è quello che può accadere nel bambino piccolo, addirittura nel neonato. La diagnosi la si fa sottoponendo il paziente, in questo caso parliamo soggetto adulto, ad una visita per capire qual è la condizione clinica dell'orecchio del paziente, ma soprattutto una serie di esami che non possono prescindere da un esame audiometrico tonale, che non è altro che un esame che consente di valutare quanto il soggetto sente, o chiaramente quanto non sente. viene fatto accomodare il paziente in una cabina, vengono collocate delle cuffie su entrambi gli orecchi e viene stimolato con dei suoni che cambiano di intensità e di frequenza. Questo è il primo esame che ci dà naturalmente, ribadiamo ancora una volta, una stima quantitativa dell'udito di questo soggetto. Un esame che va sempre associato è un esame audiometrico vocale, che consiste questa volta non nell'inviare un semplice suono, ma nell'inviare una serie di parole che il soggetto dovrà ripetere e che chiaramente ci darà una indicazione molto più precisa sulla qualità di udito. Esami, naturalmente, di accompagnamento possono essere l'esame impedenzometrico, ad esempio, un esame importante per capire in quali condizioni è l'orecchio medio, se c'è una forma di udite catarrale, piuttosto che una otosclerosi, fino ad arrivare poi ad esami, una volta stabilita la diagnosi, un pochino più complessi, ma che, per esempio, noi eseguiamo quando sospettiamo delle patologie anche di tipo neurologico, ad esempio una sordità da sclausi multipla o una sordità da neurinoma, ossia un tumore benigno dell'orecchio, del nervo uditivo, che deve essere correttamente studiato, ad esempio, con i potenziali evocati uditivi. Questo per quanto riguarda il soggetto adulto. E invece nel neonato come cambia la dinamica? Guardi, nel neonato la dinamica cambia. Dobbiamo ricordare il fatto che noi in Regione Campania, ormai da anni, eseguiamo uno screening neonatale universale. Tutti i nati della Regione Campania, entro il terzo giorno di vita, eseguono un test che viene definito emissioni autoacustiche spontanee. È un test estremamente semplice, in dolore, che consente veramente in pochissimi secondi di capire se questo è un bimbo, se il neonato è un bimbo normodente o se è un bimbo che deve essere avviato ad una serie di indagini. Attenzione, l'alterazione di questo esame non ci dice che il bimbo è sordo, ci dice che è necessario eseguire ulteriori esami, come ad esempio i prodotti di distorsione o i potenziali evocati uditivi. Questo lo facciamo già alla nascita. E non cambia molto se, come a volte capita, arrivano i genitori di un bimbo che ci dicono Guardi, dottor, io ho la sensazione che il bimbo quando lo chiamo non mi risponde, sembra sempre distratto, si fa sempre ripetere le cose. Ora, senza voler allarmare nessuno, il bimbo quando è immerso nel suo mondo ha bisogno di stimoli intensi per essere distratto. Quindi il fatto che si faccia ripetere più volte delle parole non deve allarmare più di tanto. Va sicuramente preso in considerazione. E in questo caso abbiamo una serie di esami che devono necessariamente prescindere dalla collaborazione del piccolo. Perché evidentemente il bimbo di due anni o di sei mesi, ma anche di tre, non può collaborare, non può dirci in maniera attendibile se il suono che gli stiamo inviando attraverso una cuffia viene percepito o no. E quindi abbiamo qui uno strumento che ci può essere d'aiuto. Guardi, ce ne sono tanti, ma per esempio questo non è altro che una strumentazione portatile che consente di eseguire veramente in pochissimi minuti una serie di indagini che vanno dalle emissioni autoacustiche spontanee, che è il test di primo livello, ad un test un po' più complicato, che sono i prodotti di distorsione, fino addirittura ad un ABR da screening, che ci dà l'assoluta certezza della normalità uditiva del bambino. Possiamo far vedere come viene utilizzato, perché è veramente di semplicissimo utilizzo. Questo è il sondino che viene applicato nell'orecchio del bimbo, che può essere sveglio, l'importante è che stia più o meno tranquillo. Ecco, io ho posizionato nell'orecchio, in questo caso il mio, questo sondino. Non devo fare altro che pigiare questo tasto. Ecco qui. Viene fuori un grafico che ci consente di valutare la corretta funzione uditiva, in questo caso del mio orecchio. Abbiamo impiegato una ventina di secondi. È un test assolutamente indolore, ma è un test estremamente attendibile. Ricordo ancora una volta, qualora questo test dovesse risultare alterato, non vuol dire assolutamente che il bimbo è sorpo. Vuol dire che c'è qualcosa che va approfondito e lo faremo con le emissioni odacustiche come prodotti di distorsione o, nel caso sia necessario, con le ABR da screening fino a farli con le ABR cliniche. Bene. Facciamo ovviamente un'ultima domanda, che forse è quella che interessa di più ai nostri telespettatori, cioè quali sono le possibilità di terapia? Beh, è chiaro che, come in qualsiasi patologia, la terapia non può prescindere evidentemente da quella che è la causa della sordità. Per cui è chiaro che una riduzione di udito per una perforazione timpanica va gestita sottoponendo il paziente ad un intervento chirurgico di richiusura della membrana timpanica che generalmente restituisce un corretto udito al paziente stesso. Completamente diverso, invece, il discorso quando ci si trova in presenza di una ipoacusia che interessa il nervo. E lì, naturalmente, abbiamo due sole possibilità. Esclusi i casi chirurgici, come ad esempio, lo abbiamo accennato, una cisti che spinge sul nervo dell'udito, provoca una riduzione di udito, che generalmente si risolve non tanto per risolvere il problema di udito, ma si risolve chirurgicamente perché quella cisti a lungo andare può crescere e può dare qualche problema in più. Quindi, escluse patologie che richiedano interventi chirurgici o terapie mediche di altra natura, ad esempio una degenerazione su base neurologica, dobbiamo ricorrere sostanzialmente alla protesizzazione acustica. Ormai esistono degli apparecchi acustici che funzionano veramente bene, purché siano correttamente regolati e correttamente consigliati. Molto spesso il paziente, per motivi estetici, si spinge a decidere personalmente quale apparecchio acquistare. E qui bisognerebbe aprire una parentesi perché molto spesso ci si trova di fronte a aziende che devono vendere protesi acustiche. E qui bisogna fare attenzione. Ogni paziente ha una sua sordità e ogni sordità deve essere trattata con una protesi che sia idonea a quella sordità. Bisogna accontentare non il paziente, bisogna saper scegliere la protesi in base alla sordità. È un aspetto molto importante, è quello della precocità con cui utilizziamo e prescriviamo una protesi acustica. Molto spesso il paziente dice, sì dottor, sì, effettivamente non sento bene, però è presto, mi sembra presto per una protesi acustica. E qui bisogna essere molto attenti con il paziente perché dobbiamo assolutamente evitare che una riduzione di udito, un'alterazione della percezione uditiva, crei quella che viene definita la deprivazione uditiva, ossia i nostri segnali uditivi arrivano alla corteccia cerebrale, specifica alla nostra corteccia uditiva, che naturalmente funziona fin quando è correttamente stimolata. Se io ho una riduzione di udito, questa area corticale viene stimolata in maniera progressivamente minore, fin quando il paziente pronuncerà la classica frase. Dottore, io sento, ma non capisco. Non è solo un problema di quantità, è un problema legato al fatto che ormai la corteccia uditiva, che deve farci capire le parole, è stata stimolata negli anni, progressivamente, sempre meno, e non riesce più a fare il suo lavoro. Quindi la protesi acustica deve essere vista non solo come lo strumento per migliorare la capacità uditiva, ma soprattutto come uno strumento preventivo, perché non bisogna arrivare a livelli di alterazione qualitativa talmente alta che a quel punto la protesi acustica potrà farci sentire bene i rumori esterni, ma non riuscirà più a farci capire il segnale più importante, che è la parola. Grazie per aver specificato quest'ultimo concetto, cioè che la protesi appunto è non solo una possibilità terapeutica, ma l'unica possibilità preventiva appunto per mantenere una stimolazione adeguata della corteccia e quindi per evitare che il nostro udito possa peggiorare. Dottore, la ringraziamo per la vostra partecipazione e ci aspettiamo un suo ritorno l'anno prossimo. Con piacere, con piacere. Benissimo, a voi invece do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Panacea. A presto. Benissimo, a voi invece do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Panacea.